Vercelli. Stazione di Vercelli. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Alla chiesa di San Bernardo, Sbirri puscerà lo sbango. Faccio e resistenza pubblico ufficiale, per una bella perquisia anale. Al seminario Arcivescoville, si spaccia bamba col badile. A Vercelli militare arrestato, per spaccio sfegatato. Alla chiesa di San Vittore, chili di hashish sul trattore. Se anche tu vuoi un po' spacciare, a Vercelli dovrai andare. Vai da Tranovara ai Vercelli, a suoni vanganellate e coltelli. Vercelli. Stazione di Vercelli. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ma disρί. Stazione di Vercelli. La durata riannetta? Alontanarsi dalla linea gialla. donarих. 每-